Il Rotary Club Castelli Svevi di Andria fa il punto della situazione riguardo le sue attività sul territorio. Lo ha fatto in occasione della visita del governatore del distretto 21-20, Nicola Maria Auciello, insediatosi da pochi mesi. L'incontro si è tenuto al Crystal Palace di Andria, un momento di confronto per rilanciare i temi su cui il Rotary sta lavorando per dare il proprio contributo. Il distretto in particolare attualmente è impegnato sul fronte della pace. L'hanno iniziato chiaramente in maniera particolare perché c'è stata questa invasione della Russia all'Ucraina, quindi io ho impuntato tutto sulla pace. Infatti il Rotary, con tutti i club, tra cui il club di Andria che stasera dovevo visitare, è impegnato proprio per questo, alla risoluzione dei conflitti. Tutte le nostre azioni sono basate su questo. Grande attenzione anche al tema della violenza sulle donne e non solo. Abbiamo fatto un concerto di sensibilizzazione a Bari con una raccolta fonti che ci permetterà di sponsorizzare una ragazza che continuerà gli studi, una ragazza che veramente ha bisogno di questo aiuto e noi lo daremo. Poi stiamo procedendo a divulgare la visione dei costruttori di pace come Rotary. In questo abbiamo dato alle stampe un libro del 1959, una ristampa, Le sette vie verso la pace. Linee guida su cui si basa anche il lavoro del Rotary Club di Andria che quest'anno festeggia i 35 anni dalla sua fondazione in programma una serie di iniziative da sviluppare nell'immediato futuro. Quest'anno abbiamo una serie di service che crediamo avranno importanti rigadute sul territorio. Uno è un progetto sull'imprenditoria femminile, un altro è un corso di una scuola di canto corale al quartiere San Valentino per i ragazzi del quartiere San Valentino e poi abbiamo aderito a un Global Grant, cioè una sovvenzione internazionale per la costruzione di un impianto fotovoltaico per garantire l'istruzione e l'erogazione di energia elettrica ad una scuola, in un villaggio del Pakistan. Tanto lavoro dunque, ma soprattutto un costante servizio al territorio, questo lo spirito del Rotary. C'è tanto da fare, noi ci proviamo, noi ci siamo, il Rotary è questo, noi ci crediamo e andiamo avanti.